Gentili telespettatori, buona giornata. Ira di Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, per il caso di Stefania Craxi, che viene nominata alla guida della Commissione, dove è stato poi mandato via il suo politico, e così lui questo non lo riesce ad accettare. E c'è una nuova maggioranza, dice Giuseppe Conte, e sorprende tutti e mette in guardia Mario Draghi. Così il leader del Movimento 5 Stelle fa riferimento all'elezione di Stefania Craxi, alla presidenza della Commissione Esteri del Senato. Un voto avvenuto grazie al centrodestra, che ha così spaccato la maggioranza di governo. Questo però avvenuto nella Commissione, non nel Parlamento inteso in seduta comune. La senatrice di Forza Italia sarebbe stata eletta in modo compatto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ma è caccia ad altre defezioni. Da qui l'ira di Conte, che si è visto soffiar via la poltrona. Ettore Liccheri, infatti, non ha ottenuto i numeri necessari alla nomina e Conte è stato costretto a convocare d'urgenza un consiglio straordinario. Ieri, cioè martedì, l'altro ieri, avevamo avvertito, dice il Presidente del Consiglio e il Governo, perché si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti, regole e accordi. Quindi è stato avvertito il Presidente del Consiglio e spetta innanzitutto a lui, dice Conte, prendere atto della responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza. Le accuse di Conte accadono dunque, oltre che sul centrodestra, sul partito di Matteo Renzi. Avevo detto, dice Conte, che c'è qualcuno che lavora per tenerci fuori dalla maggioranza. Oggi però prendo atto che PD, 5 Stelle e Leo hanno un atteggiamento responsabile, mantengono i patti, gli altri no. Quindi, secondo Conte, si sarebbe formata una nuova maggioranza. La conclusione qual è? Che l'attuale maggioranza esiste solo, dice sempre Conte, sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione. Insomma, Conte non deve solo accettare l'espulsione del grillino Vito Petrocelli, ma anche quella che definisce una gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura fra le forze di maggioranza. Nel segreto dell'urna se ne è formata una nuova in modo surrettizio, violando regole e patti. Insomma, tutte queste storie perché è stato mandato via questo grillino Vito Petrocelli, che era quello che faceva gli auguri per la festa della liberazione in Italia, il 25 aprile, e scriveva liberazione con la Z, quella russa. Un chiaro segnale di un certo tipo. Adesso la Craxi, Stefania Craxi, ha detto chiaramente che questa commissione avrà un'impronta atlantista, quindi senza nessuna Z, senza nessuna ambiguità o cose strane. Sarà una commissione assolutamente atlantista, questo è quello che diceva Stefania Craxi, in più ha perso una poltrona, e poi, attenzione, questi sono i grillini, quelli che combattevano la casta, le poltrone, ma sembrerebbe che in quanto a poltrone siano realmente molto afferrati alle poltrone. Le poltrone cosa vuol dire? La poltrone non è solo un lavoro ben retribuito, perché attenzione che tutte queste posizioni, presidente della commissione, viceministro, ministro, sottosegretario, segretario, sono tutte retribuite, non è che uno fa il parlamentare e dice, ah, mi fanno fare anche lì parte della commissione, oh, che noia. Queste cose qui non sono fatte gratuitamente, sono tutte pagate e questi soldi si vanno a sommare a quelli di parlamentare. Ad esempio un ministro prende 12-13 mila euro come parlamentare, come deputato senatore, più 5-6 mila netti di ministro e arriva di solito quasi a 20. Quindi quando vengono tolte queste commissioni, queste presidenze, non sono solo delle posizioni di prestigio per il partito, ma sono anche soldi per chi occupa quella posizione. Non so se vi ricordate la presidenza del Copassir che era in mano alla Lega e non voleva mollarla, che aspettava Fratelli d'Italia, che era all'opposizione, non voleva cedere questa poltrona. Era di potere, ma anche chi c'era ad occuparla al leghista era anche una bella retribuzione economica. Questo Vito Petrocelli non aveva nessuna intenzione di lasciare la presidenza di questa commissione, perché c'è anche una bella entrata economica. Ecco, alla fine questi grillini si sono rivelati veramente come quelli che loro volevano combattere, loro volevano combattere la casta, volevano essere quelli che anteponevano allo stipendio, alla poltrona l'ideale. Invece sono come tutti gli altri, antepongono prima lo stipendio agli ideali, eccetera, eccetera. Prima lo stipendio, poi la poltrona, simbolo di prestigio, di potere, e poi arriva tutto il resto. L'ideale è dopo, dopo soldi e potere. Ecco, naturalmente Conte, che ha la ricerca di consenso, sta cercando l'elettore perduto, e si è messo volontariamente contro Draghi, per motivi elettorali. Tutto il casino, chiamiamolo, che sta facendo in questi giorni è perché ha fatto fare un sondaggio riservato. Da questo sondaggio riservato è risultato che il partito realmente è al 10,2%. I sondaggi lo danno al 13-13,5%, ma questo sondaggio riservato, che lui ha fatto fare perché dice magari abbiamo di più, ma i sondaggisti ci mettono bassi, in realtà sarebbe sovrastimato il partito dai sondaggisti, perché in questo qui riservato risulta addirittura di oltre tre punti percentuali inferiori a tutto quello che si è visto in queste settimane. 10,2%. Allora sta cercando in tutti i modi di riconquistare terreno, andando contro tutti, dicendo che non si fa questo, non si fa quello, non si mandano materiali là, adesso basta, che Draghi riferisce. È un atteggiamento da campagna elettorale. Atteggiamento da campagna elettorale. Lo stesso che ha Salvini. Tutti e due questi capi politici, Salvini e Conte, sono alla ricerca dei divoti. E i loro partiti intanto stanno precipitando nei sondaggi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.